La parrocchia di San Domenico si prepara a celebrare la festa di San Pio da Pietralcina sabato 24 settembre. Dopo il Santo Rosario delle 18, infatti, ci sarà la celebrazione della Santa Messa alle 18.30 con la consegna alla comunità parrocchiale di oggetti e lettere appartenenti al Santo e che sono state donate alla parrocchia nei mesi scorsi. Tra questi un guante e una sciarpa di San Pio da Pietralcina. È un grande dono che abbiamo ricevuto. Un nisseno era intimo amico di Padre Pio da Pietralcina, è venuto a mancare a gennaio e gli eredi ci hanno fatto questo prezioso dono di alcuni oggetti appartenenti a Padre Pio. Giorno 24, sabato 24, durante la Messa delle 18.30, queste reliquie verranno consegnate ufficialmente alla parrocchia, alla comunità e quindi potranno anche essere motivo di preghiera, motivo di conoscenza anche di questa bella figura del Santo da tanti amato e sarà anche un momento per riprendere insieme il nostro cammino nella Via della Santità. Si tratta di alcuni oggetti appartenenti al Santo, la sciarpa, il guanto, delle lettere autografe e poi degli altri oggetti personali e ci sono anche delle crosticine, delle mani. Sappiamo che Padre Pio aveva le stimmate e quindi sono state raccolte e conservate anche queste croste messe in un reliquiario. Quindi si tratta sia di oggetti sia da parti del corpo di Padre Pio che sono stati donati alla parrocchia e resteranno qui in questa parrocchia.